Il Salone di Vini di Vignaioli Puglia Cala e il Trisse per il terzo anno consecutivo si terrà a Bari dopo il successo increscente delle precedenti edizioni. La manifestazione dà appuntamento per questo fine settimana dal 12 al 13 maggio negli spazi del Teatro Kismet del Capologo. Definito il programma che si sviluppa nell'arco di tre giornate con l'anteprima musicale di sabato 11 maggio, sempre al Kismet, con il concerto Tonino Carotone Unplugged Experience. La rassegna entrerà nel merito domenica 12 maggio con la fase di degustazione e vendita che parte a mezzogiorno, seconda giornata di fiera lunedì 13. Mission della manifestazione è promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della natura e consapevoli sia in vigna sia in cantina. Un invito a comprendere il vino nella sua dimensione più autentica dove ogni calice diventa espressione di un territorio, di una storia e di un impegno verso l'ambiente. La fiera di maggio conta sulla partecipazione di oltre 50 aziende vittivinicole, offrendo anche l'opportunità di comunicare direttamente con i produttori e assaggiare prodotti che incarnano la ricchezza dei diversi terreni italiani. Confermiamo alcuni produttori che sono venuti l'anno scorso, ci sarà una bella partecipazione da parte di produttori spagnoli con una masterclass dedicata che abbiamo pensato di chiamare Jamón y Vinos, quindi Jamón Serrano e Vino Spagnolo, il lunedì aperta a tutti gli operatori e gli appassionati. Fermiamo più o meno gli stessi numeri dell'anno scorso, anche se abbiamo deciso, proprio per la grande quantità di produttori e di operatori che sono venuti lo scorso anno, di ridurre leggermente il numero degli operatori in sala in modo tale da poter creare un clima più intimo, con un rapporto più diretto fra i visitatori e gli ospiti della fiera.